Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un secondo video, io sono la 05, sono con la squadra di Cagliari e l'Inter in cui finito 2-1 con la vittoria dell'Inter qui ragazzi in cui al primo tempo ragazzi ha segnato il gol 2-1-0, l'autoro Martinez che concesso il gol 2-1-0 e che ha dato un vantaggio l'Inter poi ragazzi in primo tempo il Cagliari ha dato un'ottima occasione che ha dato un vantaggio e anche un po' per l'Inter di Conte quindi ragazzi poi nel secondo tempo ragazzi cambia le altre partite, il gol della parità va a segnare il Pede, Gioao, Pedro che accogliarsi il gol della parità ragazzi il gol del 2-1 e il secondo tempo va a segnare ancora Luigi durante Roma e Lukaku che accogliarsi il gol del 2-1 quindi ragazzi nella partita si misce con quel gol 1 con la vittoria di uomini di Conte che spugnano in casa nella Sardegna Arena in casa del Cagliari e quindi ragazzi questa partita è anche molto bella, anche qui anche il Cagliari di Parella ha giocato contro la sua ex-Cagliari dove è cresciuta dove è stato con moltissimi anni ma non è stato neanche schierato neanche il primo momento è stato in panchina quindi ragazzi per Parella questo è stato un match molto importante da cui è cresciuto nel Cagliari dove lì è esplosato molto bello e quindi ragazzi è anche molto fondamentale anche per Rai per il ninja ragionicola che gioca insieme contro la sua ex-Cagliari e quindi ragazzi con questa vittoria e quindi ragazzi adesso l'Inter si porta 3 punti e si avanza la classifica e invece il Cagliari rimane ancora nel secco di vittoria e quindi ragazzi questa partita è stato molto importante per l'Inter di Conce e invece per gli uomini di Maran che perdono in casa loro e quindi ragazzi l'Inter torna a casa con una vittoria e il Cagliari torna a casa per una sconfitta da cui in questa partita ci sono mancato anche Leonardo Paoletti che ragazzi è stato assolutamente per un grave infortunio da cui Maran ha fatto giocare da primo momento anche Robin Olsen il nuovo acquisto dei Sardi e Giovanni Simeone che l'ha tenuto in panchina e per adesso sostituirà l'un altro Paoletti al posto di Maran e al posto di Simeone ha schierato e quindi ragazzi vedremo poi se spugnerà nella prossima partita e quindi ragazzi questa partita è stata molto bella alla parte del Conte che si porta un'altra vittoria da cui interviene da grandi vittorie contro il Lecce quindi ragazzi voglio dire da loro è tutto ci vediamo durante la prossima sera ci vediamo